ciao a tutti ragazzi benvenuti a questo nuovo video allora giochiamo contro i russiani ok ok che possa? si ok eh io non rubavo uno solo proprio il massimo vabbè peccato noi abbiamo fatto un po' il possibile vediamo se ne trovo altri magari che lui non l'ha trovato ma sicuramente lui ha fatto il secondo esploratore mentre io no intanto qua come sempre c'è l'oro e proverei un rascettino ecco lì almeno sti tre li prendo li rifaccio prendere completamente tutti almeno bai bai Ok, ma qua c'è l'antroope Ho trovato anche un cindiale, bene lui io mi riporto tutti Questa base Questi li posso prendere, il cindiale ce l'ho qui e lì Vale dai Fa un postino Ok Ok Ok, dai, almeno i lupetti che li abbiamo presi Dai con l'oro Ok Ah, qua ha già ammazzato tutti vero? Tanto ci ha già passato Ok, ci sta Ok Allora appena passiamo faccio subito il potenzialmente della lascia doppia Almeno ci abbiamo della... subito della legna da usare Da proprio tutti alla legna Dovrei fare anch'io ma sono sbagliato Tanto lui viene per raccogliere i cavalli penso A vedere che viene, tanto qua non c'è niente Dopo, allora due questi li manderemo qua A qui Tanto lo c'è niente Alla legna Anzi Deve fare una casa, va Ok Ok Me la faccio a farlo subito? Si, la faccio adesso Non so Eh Secondo centro città qui Molta E' la faccio l'ho Sì Eh E' la faccio Niente Scusa E' la faccio E' la faccio Questa E' la faccio Scusa Alla faccio Y Alla faccio Scusa Scusa cosa è il rush è un po' andato a farsi fottere bell'esercito l'ho costruito ma adesso potrei ancora provarlo il rascettino eh però boh non so se conviene dovrei preparare più che altro gli arieti se voglio fare un rush io la ricerca la metto lì tiro su un altro tiramo su adesso la ricerca il cibo mostriamo altri due tre facciamo così vabbè sicurezza facciamo però così dirigo direttamente là dietro ci proviamo potremmo anche avanzare sicuramente ma non si avanzava la legna no dai qua dietro no ssssss ssss 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 sssss 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 ssss ssss ssssss sssssag ssss Sì, sì. Si è arreso. Non so perché se esattamente non stavo gestendo per niente là. E vabbè, GG. Ah, poi qua praticamente l'avevo buttato giù, senza manco guardare la struttura. Stavo concentrato nel difendermi. Ok, vabbè, GG. Statistiche. Stava messo meglio lui. Ah, vabbè, è andata. Ho tornato anche in platino, visto che l'avevo perso, quindi sta più o meno funzionato questa nuova strategia, un po' più rasciosa con essi. E vabbè, prossimo video. Ciao.